Si apre una nuova stagione di programmazione acertosa dopo l'ampliamento scolastico e l'inaugurazione del centro sportivo dei mesi scorsi, l'amministrazione comunale del sindaco Marcello Infurna punta a intervenire su più ambiti. Non solo il tema dei collegamenti con le frazioni, grande attenzione viene infatti destinata anche all'edilizia scolastica e al delicato settore dei servizi sociali. Abbiamo allargato la platea degli assistiti perché soprattutto in materia di servizi sociali c'è sempre bisogno ovviamente di assistere la popolazione più fragile e su questo non ci siamo mai sottratti, tanto è vero che la nostra voce di bilancio più corposa e più grossa è che continuiamo ad alimentare. Particolare attenzione come sempre alla scuola che abbiamo oltre che l'ampliamento scolastico di cui tanto si è parlato, quindi con la mensa abbiamo installato il nuovo ascensore e quindi abbattuto anche diverse barriere architettoniche abbiamo effettuato una serie di lavori all'interno dei vari plessi per esempio con nuovi bagni per disabili. La crescita del comune di Certosa è stata costante nel tempo, i numeri parlano chiaro con il bilancio che è arrivato quasi a triplicare. Sono davvero fiero di ciò che siamo riusciti a fare perché insomma è un piccolo comune che nell'arco di pochissimi anni è passato da un bilancio che va dai 3 milioni agli attuali 8 milioni di Euro e che mette appunto non solo ha valorizzato il patrimonio comunale che noi abbiamo ma che ci ha permesso davvero di poter avere maggiori servizi e di guardare a tutti gli ambiti, anche per esempio agli ambiti ambientali.